Arte, architettura, plasmano il volto delle città, definiscono lo stile di un'epoca, lasciano tracce nel profondo, ci dicono chi siamo. Dalla sua nascita, l'Inps custodisce un patrimonio dal valore inestimabile. Mi sono sentita una privilegiata, una persona che aveva scoperto un luogo celato e più. L'Istituto decide in quel momento di farsi portatore di quella forza innovatrice che rappresenta la nuova socialità, la nuova previdenza. Ora, per la prima volta, questi tesori vengono alla luce. Lavorare fra queste mure che racchiudono così tanta storia e tanta arte è sicuramente un motivo di orgoglio, un piacere, sia per me che per i colleghi. Un viaggio ricco di storia, cultura e fascino sono le eccellenze patrimoniali dell'Inps. Grazie a tutti.